Ciao ragazzi, oggi video rilassante, ASMR, calmo, rilassato e andiamo a fare una creazione assieme, non metterò la musica e parlerò in modo molto calmo e delicato. L'unica cosa è, come vi dico sempre, che purtroppo c'è un bel po' di rumore di traffico a casa, non ci posso fare niente purtroppo, e in tanti mi avete scritto che il rumore di traffico o il rumore di sottofondo vi rilassa un sacco, quindi spero che non vi dia troppo fastidio. Comunque, allora, vi ho fatto vedere in un video haul che ho acquistato questo kit, in pratica con questo kit si può creare Olaf, che è il mio personaggio preferito, quindi sono super curiosa di provarlo, questo è il kit dentro e costava solamente 1,50€, incredibile. Poi sto pensando che magari dopo lo posso mischiare uno slime, vediamo prima come va, se sarà un successo o se mi escerà un disastro, sono super curiosa di aprirlo e crearlo con voi. Nel frattempo, se volete, potete mettervi comodi, potete mettervi le cuffie se volete e rilassatevi ascoltando i vari suoni e la mia voce. E ovviamente lasciate un bel like, che mi aiuta tantissimo, i likes mi aiutano tantissimo nei video, quindi lasciate un bel like. E ora andiamo subito ad aprire questa scatolina con un po' di tapping. Ok. Questo è il contenuto della scatola, abbiamo un... Allora, apriamo un po' questa bestia e vediamo cosa c'è dentro. Allora, abbiamo dei fili azzurri che sono per appendere poi Olaf, perché poi si trasforma in qualcosa che si può appendere in qualcosa che si può appendere, quindi super carini. Altri fili. Poi questa, se non sbaglio, è la plastelina, la plastelina che poi si va a inturire. E questo è blu, è quella blu. Poi abbiamo delle formine, se non sbaglio, sono diverse, quindi si andrà a creare un personaggio piatto dietro. Andiamo a vedere queste. Allora, qua abbiamo la faccia di Olaf e Olaf in piedi. Non vedo l'ora di crearlo e vedere come esce. Invece qua abbiamo le faccine di Olaf. Qua ci sono delle perline e non capisco il perché, perché queste non ci sono disegnate nella scatola. Forse non so a cosa servono, perché qua nella scatola non c'è nessun disegno. Forse se vogliamo aggiungere qualche brillantino a Olaf possiamo aggiungere questi. Poi abbiamo la plastelina arancione, quindi per fare il naso. Ora che ci penso l'azzurro Olaf non lo ha addosso, quindi non so per che cosa va usato. Poi abbiamo il marrone per fare le braccia, i buttoni, gli occhi, le sopracciglia. Questo è più pieno. Poi abbiamo il bianco per fare il corpo di Olaf. E infine abbiamo gli occhietti, che sono super carini, veramente tenerissimi. Ok, non ho idea da dove devo iniziare. Allora, per primo vorrei fare Olaf in piedi, però penso che sia più difficile. Quindi proviamo a fare una faccia di Olaf abbastanza grande. Quindi proviamo a iniziare con questa qua. Allora, dice di premere il colore della plastelina nella formina. Ora iniziamo con l'arancione. Allora, dice di premere il colore della plastelina. Poi vado a mettere il bianco. Sinceramente le istruzioni non sono molto chiare. Ad esempio non dice le sopracciglia vanno aggiunte dopo, da quello che ho capito, non so. Vabbè, mettiamo il bianco adesso. Allora, ho creato il primo e come potete vedere si è un po' mischiato l'arancione con il bianco, ma ormai l'ho già messo. Quindi passiamo ai prossimi. Vediamo, questo sicuramente il primo uscirà bruttissimo, uscirà un mostro. Proviamo con i prossimi. Forse riesco a mettere la plastelina per gli occhi. Vediamo. Allora, che sarebbe? Non per gli occhi, per le sopracciglia. Ma non c'è il posto per le sopracciglia, no? No, allora l'ho messa dopo. Ok, metto un po' di azzurro nella bocca dentro. Allora, buona notizia, l'ho bagnato con un bel po' di acqua calda, ho iniziato a modellarlo e si è riammorbidito. Se volete fare anche voi a casa queste creazioni, vi basta comprare degli stampini, li trovate su Amazon, suppongo, e poi questa clay che si asciuga all'aria, che la vendono ovunque, anche da Tiger mi sembra. Allora, ora riproviamo con l'azzurro, mettiamolo nella bocca. Allora, siccome non so come utilizzare l'azzurro e il bianco non è abbastanza, questa faccia di Olaf la vado a fare azzurra. Almeno lo uso. Vediamo un po' come ho fatto. Abbiamo fatto il secondo Olaf. Ora voglio provare, prima di fare il terzo, voglio provare a fare questi in piedi, prima che mi finisca il bianco. Allora, mettiamo innanzitutto il bianco. E ora mettere i bottoncini, quindi devo riuscire a mettere del marrone, o nero, qua nei bottoncini e nei piedi. No, i piedi sono bianchi, quindi solo in teoria anche nell'occhio, ma poi andiamo ad attaccare quelli. Vediamo se riesco a fare i bottoncini. Per i bottoncini ho semplicemente messo tre pallini. Spero che rimangano lì, quando vado a mettere quello bianco adesso, vediamo. Per i bottoncini ho semplicemente. Questo qua non sono però anche informe nei tavissa. ok ora giriamolo e scopriamo la verità vabbè dai non male pensavo peggio chissà come diventerà allora questa volta in questo invece di usare il marrone per i buttuccini provo a usare questi brillantini che hanno messo nel pacchetto vediamo se grazie ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, belli brillantini, sinceramente pensavo molto peggio, però purtroppo il bianco è finito, quindi i prossimi andiamo a farli di un altro colore. E mi sembra strano fare Olaf di un altro colore, però vabbè, che dobbiamo. Ok, abbiamo solo gli ultimi due da fare e voglio fare qualcosa di creativo, cioè mettere un bel po' di brillantini, visto che ce li abbiamo. Ve li faccio vedere tutti, alcuni sono veramente dell'orrore. Allora, questo sono riuscito a salvare un po' di bianco, però è mezzo arancione e mezzo bianco, quindi non so come uscirà. Questo è Olaf azzurro e, insomma, Olaf azzurro. Qua c'è un po' di mix tra bianco e arancione, oddio. Poi, questi penso che siano quelli che mi sono usciti meglio, in particolare questo, infatti non vedo l'ora di vedere come diventano. E questo è sicuramente il più brutto di tutti, in pratica ho mischiato dei tre colori, perché non avevo più colori. E, niente, è uscito questo mix orrendo. Niente, ora bisogna lasciarli tutta la notte a... Sì, tutta la notte ad asciugare e ci rivediamo fra poco, vi faccio vedere il risultato, vediamo come... Ok, ragazzi, eccoci qua, si sono finalmente induriti e andremo ora a vedere come sono diventati. Poi, in realtà, dobbiamo anche mettere gli occhietti, sono super curiosa di vedere come sono usciti. Quindi proviamo prima a togliere... non so se iniziare da quelli belli o quelli brutti. Proviamo quelli belli, dai, vediamo un po' come sono usciti. Non so come toglierlo, provo a schiacciarlo. Ok, sta uscendo. Oddio. Ok, ecco come è uscito questo, che tra l'altro è il più brutto che ho fatto. Mi ero anche dimenticata che avevo messo un brillantino qua in mezzo. E, oh mio Dio, penso che sia veramente un mostro questo Olaf. È orribile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ora proviamo a togliere questi che sono... dovrebbero essere quelli usciti meglio e ho un sacco di paura di romperlo. Ci sono rimasta malissimo perché stavo andando a rimuovere questi e praticamente sono ancora liquidi dentro. Nonostante io abbia aspettato tipo... sono passati tipo tre giorni. Guardate. Qua rimane ancora un po' incollato, vedete. Non so se... Io speravo che almeno questi uscissero bene. Provo a rimetterlo nella formina e aspettare un pochino di più, magari... Ecco una faccina e il pezzetto di sopra si è staccato purtroppo. Comunque. Eccola qua. È un mix di arancione e bianco. Ma vabbè. Da quella fatta con l'azzurro che incredibilmente questa non si è rovinata per niente. Anzi, sembra quasi quella che è uscita meglio, nonostante il colore sia completamente diverso. Ecco qua. L'ultima. Anche questa è abbastanza brutta. E la provo a mettere velocemente in gli occhietti. Ok, ecco qui i risultati con gli occhi. Con gli occhi è un pochino meglio. Però vedete che le pupille guardano una da una parte e una dall'altra. È un po' deforme. E lo stesso vale per questo. È un po' strano. Su questo qua, bruttissimo, non ho nemmeno messo gli occhi perché... È inguardabile. E questo è l'unico in cui ho potuto anche mettere il filo perché il cosino è rimasto appeso. Infatti penso che questo sia quello che è uscito meglio alla fine. E questi due mi dispiace un sacco ma non si sono asciugati bene. Quindi proverò a aspettare un po' e poi proverò a mettere gli occhietti dopo. Ma non so nemmeno se si asciugheranno veramente del tutto. Io comunque conservo queste formine e magari proverò a rifarli. Ricompro la pasta bianca e vedo se riesco nuovamente a rifarli. Mi dispiace un sacco non essere riuscita a farli bene ma immaginavo che non sarebbe uscito niente di che. Questo comunque è super simpatico perché sembra Olaf Horror. Anzi questo, questo sembra Olaf Horror. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo primo episodio di creazioni ASMR con me. Se vi è piaciuto e se riceve abbastanza likes continuerò questa serie e farò altre creazioni ASMR sempre. Così vi potete rilassare, guardare questi video mentre studiate, mentre leggete, mentre fate i compiti. O semplicemente insomma per rilassarvi un pochino o per dormire. Quindi fatemi sapere tutto nei commenti anche cosa ne pensate dei miei Olaf o mostri ciotoli. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!